Così quasi faccio un randomino? Sìììììì! Il mio personaggio preferito! Dai va benissimo, prezzemolo! Oh sì! È lui! È uguale! Dai facciamo il bosco allora, visto che vuole lo muore! Sìììì! Il bosco! 20 bonus tutti! Handicap ON! Oh, finalmente ho del hand-up! Ma veramente li mettete! Cazzo? Ah non posso metterne più di 5! Ma davvero! No! No cazzo, mi sa che allora non vinco manco così! mi servirono almeno 9 io pensavo fossero 9 pensavo fossero 9 ho già perso mi sa che quasi quasi disconnetto meglio che ti apri il vino che ti ho portato quello ancora lo conservo per occasioni speciali questo non lo è in realtà no però si bosco è quando giocherai con Nicola eh si vabbè ma chi giocherà più con Nicola raga adesso partirà il messaggio in alto a sinistra Nicola sta giocando Mario Kart 8 ecco va adesso arriva ecco nonno per dic della stante vince Warriuzzo ok ci sta ha un gran vantaggio iniziale non mi sento molto sicuro di me stesso con 5 stelle no secondo come mai secondo infatti mi sa che è quitto avevo fatto 10 ma che belli questi sticker eh cioè l'italiano dice eh mi te la prendo in culo ciao e vai guarda come mostra che bello ma però almeno questo c'è la musichetta figa ma sono sulle spine comunque nel senso vabbè guai nonno c'è la tua famoso cambio di predic ma sei a casa nonno sei a qualche festa natalizia la voglio leggere le tue celebrazioni comunque Godot dice che vince Nessi invece ha il potere di Weird Days è vero Weird Days si avvicina ragazzi a cambiare come è fatto il mondo per come lo conosciamo domani alle 6 io lo voglio vedere assolutamente io sì sì eh purtroppo non sarò a casa forse quindi sarò lì a farmi scusare finché si è alzato il livello di sto gioco non ho mai visto una cosa del genere potresti quittare Wares perché gli manca solo una chiave poi ti prendo non mi sento proprio all'altezza dopo sta dopo sta azione sì quante opzioni cazzo 9 è un numero alto quindi significa che ho fatto bene hai fatto bene sì dove vado? a parte affanculo aspetta devo giocare un attimo va la stella prima della verde o se no vabbè oddio non mi ricordo un cazzo qua praticamente i cartelli cambiano dopo ogni turno no? sì sì ok quindi al prossimo turno vai verso la stella a meno che qualcuno non te lo gira prima ovviamente si compra questo dai se ce la faccio forse ce la faccio se vince il gioco il prossimo turno può creare se già la stella adesso qualcuno fa 10 e cambia la direzione bello mio ah oh la creatura alfa è il saltone mh ecchia quante belle cose soprattutto quel tizio lì quello lì con il bavaglio io cliccherai quello? ma no no invece si prende la maledizione oh no volevo la chiave vabbè posso mai la chiave solo io la posso avere eh adesso dovremmo unire i nostri ah no no eh complimenti grande dai dai vai 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 forza grazie ben fatto ma questo com'è in italiano now adesso ora ora sì questo dovrebbe dire che schifo però che schifo no questo che è uscito ma questo sono forte la destra e la sinistra sulle foglie e se sbagli vai giù per di tempo una volta ero forte adesso non so eh mi sa di no 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 che una volta sono caduto se non hai mai sbagliato potresti aver vinto wow madonna ragazzi mi prendo pure la stella adesso esatto ti complimenti a Guares non ci sono parole ah però potrebbe fottermi se va sul fondo esclamativo eh si vediamo no non ci può arrivare ah vabbè non ci arriva nel senso di intelligenza quello si già se faccio 10 arrivo qua davanti al tuo danno niente ah ciao Ness farm item ti serve solo una chiave se poi potresti provare a prendere quelle 5 stelle oh di no no voglio muovermi oh è in basso a destra no era in basso a destra ottimo per l'altro io penso di io potrei maledire Wares però è vero ah no ho giocato prima di me però devo fare almeno 3 beh se fai 2 comunque sei davanti esatto però perdi soldi ma quanto sei bravo ma ti sei allenato in segreto non è possibile cioè vorrei dirlo però secondo turno 6 stelle non l'ha mai fatti nessuno voglio solo dire quello ragazzi no l'hai fatto tu l'ultima partita oh no al secondo turno al secondo turno adesso ah al secondo turno mi sono messo tutte le vostre partite e ho fatto i match review come quelli che fa Ryu capito mi sono stati tutta la frindata tutte le cazzate vabbè davanti guarda sei vista no non era io l'ultima ho fatto la replay review con un mio match te la sei persa mazza ottimo eh dopo la recupero ma perché hai rigiocato a smash ma no quel replay con quel tizio con quel gannon che mi tauntava ah quello con ridley vabbè lì non c'è molto a dire così ti do anche il bonus Bowser sei contento ma che poi in verità gli può anche far comodo se non vada a poter comunque tempo ah anche tu un fischietto ovviamente lo fa calcolato no si prende la chiave lui voleva la chiave ah 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 di qua vai che vado rossa no no come non dici c'è il bonus rossa eh potresti star buttando la vittoria così no 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 Oh, basta, questo è... Ah, quello da girare... Ah, che mi voglio girare? Questo devi girare i tasti, come cazzo, il topo che gira... Non so la tetsch! E niente, metti il pollice in mezzo e fai girare... Eh, è troppo difficile... Ah, dovevo premere io giusto... E' più facile da un trovo up tilt! E' più facile da un trovo up tilt! Eeeh, ce n'è stata troppa, quindi non girerò mai! Allora, guasta Daisy come gira! Probabilmente questo è l'anticipo del video di domani, di We are Daisy... No, troppa Nutella! Eh, troppa Nutella, mi sa! Troppa! Intiposa! Ma, c'è la Donkey Kong girato di schiena! Eh, madonna che... Madonna, new record! Ah, si è bloccato! No, vabbè, c'ha... Oh, kamadoska! Che momentum! Pum! Alla fine, vabbè, cioè ero partito male! Mi devo lavare le mani per fare sto minijow, quindi... Eh, comunque sto stompando! Madonna, Wallace! Cioè... Se continui così arrivi tipo a 20 stelle alla fine della partita! Allora, vediamo se vado... Ah no! Tocca a Daisy! Eh, sì! Oh! Pum! 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 Ah no, aspetta! Provo lo speed... Ma non c'ho soldi! Ma avevi le frecce sbagliate anche... Ah, giusto, pure quello! Eccolo, cosa farà il campione? Ma... No, io ci volevo andare in realtà! Imbattibile! Vabbè, troppo fuori! Eh, il prossimo turno va sopra, però! Ah! Quasi c'hai! Magari adesso trovi il... Magari trovi il dato d'oro! Eh, già! Però se no trovo... Ero incastrato lì... Continuo a girare nel mio loop sicuro e sexy! Sì, ma tutti o voi tre mi conviene accecare continuamente lì! È l'unica? Beh, in realtà... Anche sopra il chance time! Anche sopra il chance time! Quando poi succede qualcosa di vantaggioso, vado! C'è, non so di solo per il chance time che è... Oh no! Oh no! Perché c'era tutta laggata? Oh, macchine non l'ho mai fatta! Oh! Ovviamente! Eh, in effetti è uno di quelli che usciti meno a correre macchine! Ma anche per fortuna, direi! Oh, è bello! A me non piace! Che silenzio! Concentratissimo! Anche adesso che non quando veloce! Oh! Oh! Che pio! Oh! Oh! A me non ci arrivo! Vai, Waters! Oh! A me non ci sta con la testa! No! Conventissimo fosse lì, eh! Vabbè, è bella! Perché Warriuts e Yoshi? Perché Yoshi è la mia persona giocatoria di questa scelta! E poi perché mi piace Nintendo, eh? Ovvio! Effettivamente, Warriuts pensa sia la persona che ha buttato più soldi in giochi di Yoshi di chiunque altra persona al mondo! In effetti sì! Vabbè, c'ho quindi la tua predict! Come vedi, siamo al quarto turno e Warriuts ha già 6 stelle, eh! E riuscì a perdere! In genere non era mai successo! Una cosa assurda! Ha tipo preso una stella ogni turno e finiva sempre su un blocco nascosto! 6 stelle e handicap! Ah, in realtà 5! Stilla! Il cap è 5! Pensava... Volevo metterne 9! Però in realtà è 5 il cap! E... Ne ha già presa una! Da solo a piedi! Cioè renditi conto, Veccio! Assurdo! Non mi dà più soldi! Che bella sta musighetta jungle! Si è molto jungle questa! Che sei andato sulla prima castella verde? Perché sulla prima e non sulla prima? Per fare un po' di soldi! Ah, e dopo ci vuoi riprovare! Perché secondo me no! Forse ti conveniva avvicinarti più alla stella! Ah beh! Ah no! Cazzo! L'albero cattivo! Beh ma lo sai che puoi scegliere cosa prendere! Non so ancora che mi dà! Allora, ti fa un dato che va indietro o ti toglie dei soldi? Ah! E i soldi li voglio! Però non te ne toglie! In genere non ne toglie tantissimi! Io ho sempre visto... E devi premere up per cominciare! Eh ma lui vuole sentire la musica! Eh certo! E' bella la musica! Ma aspetta qual'è? Vabbè! Vabbè! Che mi fa adesso? È in party! Vabbè! Cosa? Mi tenuto! Mi tenuto! Ah! Vabbè! Ma minchia! Meno male che noi ne teniamo poche! Ma che triste io! Cazzo qua troppo difficile! Cioè devo premere a destra e a sinistra! E' troppo difficile! Vabbè! Cioè mi si è impappinato il cervello! Guardate che Yoshi quanto è triste! Minchia! Ma che cazzo sta succedendo? Non ho mai visto sta animazione! Eh ti fa andare indietro! E' bellissima però! Arrivano gli swooper a incularmi! Minchia! Sai pure il nome! Madonna! Sì! Comunque il vecchio dice che perderai lo stesso! In effetti... Dai ma sì! Ma questo lo sappiamo tutti! Cioè è la cosa più scontata questa! In realtà con tutte quelle stelle mega prono a un chance time! Quindi... Siii! Dato numero fortunato! E ci credo che è fortunato! Uno se lo sceglie! grazie al cazzo oh no ho capito bene vuoi cambiare la direzione accidenti c'è della strategia qui c'è big brain play cazzo metti il dito metti il dito sul modem sì 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 esatto sì sì sto per spegnere vabbè è finita vabbè quattro turni sono durato quindi mi va anche bene ma io del solito no? sì stappartita sarà un chance time continuo ovunque oddio sto per spegnere io al solito non ci capisco niente su ste cazzo di icone quello per scambia tutti dove sta? ho tutte le stelle vuoi anche i soldi? eh si sta? ah sì ecco soldi e stelle se vuoi soldi e stelle dopo scambio stelle dopo 20 monete ah ok diciamo il secondo 20 gli suspense io sono pronto a staccare nooo nooo ma mi sta veramente c'è un sacco di cose ma giuro c'è un sacco di di caldo di fendere comunque dovrò continuare a giocare non era prevista questa cosa beh comunque mi va bene no ma comunque giuro raga avete attaccato qualcosa mi mandava lentissimo eh esatto guarda che è attaccato Nicola su Mario Kart 8 chi l'avrebbe mai detto ragazzi è stato quello ma comunque penso di non avere niente attaccato a parte un'altra console con Smash però no a un certo punto mi ha cominciato a andare vabbè mi ha cominciato a andare però niente sarà sarà il cazzo o il gioco che si era rotto il cazzo devi aspettare che bella musica abbiamo le bollicine ma sta a fai bait eh sì dovete fare sempre il contrario perché è un bait continuo sto gioco ma in realtà no beh ma più di tanto non si può baitare eh quanto distante vai 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 no è riposo no no sei in quattro eh sì ecco Nicola Nicola no non lo vedremo più in questo gioco io ci ho perso le speranze però l'ho detto mi piaceva farne una con Warretzness e Nicola secondo me raga lì c'è content per anni non per mesi per anni beh Mario Kart 8 è decisamente più invitante di questo gioco a bomba bellissimo e soprattutto non stanca mai come ci dimostra Nicola non devo fare più di 7 eh vabbè è per andare giù se non devi andare giù vabbè cosa vendeva c'è forziere eh c'è il portiere ah giusto così rubo la chiave a Warretz sì sì non ci trovare quitterebbe anche solo per quello sì nel nuovo Mario Party 8 giocatori al 7 si poteva giocare in 8 con i server di Nintendo crasherebbe dopo 5 secondi no guarda se non mi ha capito continuerà ad andare indietro su sto posto mi sa che farò un loop infinito su sta roba nonno che chiede ma perché Yoshi si mette a pecora beh giustamente è il suo scopo quello di essere montato proprio nella vita oh dio che brutte immagini godò ha 16 anni quindi non dite ste cose io ne ho 8 roba golosa c'è roba d'oro in fondo tutti i pro questo gioco avete capito il trucco eh sì dobbiamo informarci quando l'abbiamo scoperto mentre stavi giocando a Smash ti interrompevo guarda che abbiamo scoperto come si fa ma è più facile o più difficile di fare down throw up tilt è molto più facile cioè down throw up tilt guarda per te è facile però se ci provo per me è facile però capisco che non è per tutti quando interro qualcuno mi viene l'ansia e poi oltretutto mentre lo faccio premo il tasto per fare il video sullo switch però non funziona su Smash ma chiaramente non può funzionare su Smash forse il gioco avrebbe più bisogno di tutti ma adesso ruba faccio una cagata vabbè vabbè tanto era gratis quindi io non so che prendere se prendo dovevo prendere e vedo provare il chance time vabbè continuo a girare qua se me lo prende coins per due soldi a Nicola piacerebbe sta cosa che cazzo è rubbott wow oh dio che era questo non lo so fa questo non l'ho mi sono sempre fatto ammazzare dopo due secondi sono lentissimo puoi accelerare con A o fermarti con B per fare tipo delle finte che mi passi dietro io posso spaccare gli ostacoli voi no vabbè hai capito? no ovviamente non capito un brazzo quindi morirò esattamente tra 3 2 1 ecco qui no via lontani 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 lontaniamo che c'è la vicino aia via via io fossi in te non farai vedere questo video a WAD grande vabbè sei salvo no no infatti avete visto quando è rimasta solo Daisy mi sono ottenuto a distanza rispettosa sì l'abbiamo notato è giustamente direi finca ho fatto una gran cagata per Nessu Tuduo mi sono fatto ammagare il Dodo 1 devo prendere il Dodo 2 è un 50-50 eh ma tanto non ho neanche soldi per usarlo io sì oh è invece dai è invece l'importante è che non toccava la mia non potevi aspettare Nessu Tuduo perché tanto appunto io non potevo usarlo questo Tuduo eh vabbè anche io ho attratto da loro oh eh no no non va tanto l'abbiamo intorno a una chiave adesso non posso aprire quella corsa quindi dopo non andrà in direzione della stella esatto sì vuoi tornare di andare di chiara di nuovo? infatti ci vado infatti sì bravo grazie dello spoiler cazzo ma non so però è difficile sta cosa no non è difficile è tipo da un pro up tilt eh per me sì che cazzo è che cazzo sta facendo? aspetta l'italiano si chiama no ho fagliato ma in realtà hai fatto bene perché puoi andare davanti alla stella hai dato al contrario madonna no guardate le espressioni già c'è fighissima ma strafatto che cazzo è fatto torni dove sei rifatto cioè sto tornato a tutto di prima torni dove rian eh ti vabbè però mi godo questa bellissima animazione ah che bella e ste piante che dormono guarda ah lo rifaccio però cazzo mi dava sapevo sta cosa sì ti ridà la casella su cui finisci ah vabbè beh è ottimo allora direi che è stata una big brain play ma ti toglierà i passi non lo fa dov'era? su Mario Party 10 mi sembra che quando tornavi indietro non ti dava quello che c'era dentro la casella ah io 10 non ce l'ho non so com'è minchia oh cioè mi sta a mettere io voglio sta vabbè vabbè un'altra chiave va bene questa sta giusta ecco questo Juarez non lo sappia almeno io non lo so fare quindi non so se gli altri hanno labbato ma questo resta più ostico onestamente no però tipo se tiri nel nel time frame in cui l'ho fatto io cioè più o meno verso l'inizio vedo che va verso in fondo e prendi più o meno gli ultimi due questa è l'unica cosa che so più o meno per fare gli ultimi due che si chiama questo qua Keef? Keef si quello di Futurama ma è vero mi stava ricollegato che era lui cioè io dico Keef ma chi cazzo è invece è quello lì si quello di Zap Brannigan si e chi pensavi fosse scusa non lo so pensavo fosse un personaggio di qualche telefilm non lo so questo è troppo complesso per me con tutti i tubi così mi piace il percorso si a me non piace quella che ce ne sono in mezzo quella è una mezzo eh bravo quella è una mezzo bravo eh mi sono già incartato oddio ma che che mi sparte vabbè eh grazie Windows Update non so ho ancora W6 mi state mirando in due no non mi sparate in due ragazzi io mi ricordo che domani c'è We're Day Zirt no ma Wares non parla neanche molto concentrato ma no sto concentrato si cazzo non mi giro però ma chi siamo ah siamo tre siamo tre no siamo due oddio lo sto parlando in un cazzo lo sto parlando in un cazzo come si gira Wares lui ha una vita oltretutto tu due quindi dovresti avere un vantaggio adesso sei dietro a sto cazzo di cesso ah potrei andrgli addosso eh ma non si muove eh no allora faccio così oh madonna eh no è schillato però vengo io perché ho più vita è iniziato a muoverti l'ho comorato a ore no perché eh però hai vinto anche tu sì infatti hai vinto anche tu però hai dato dei soldi a lui adesso lui a 50 può rubarti una delle tue 6 stelle no ma sono molto lontano dal buno si preoccupate andiamo giochiamo eh proviamo a salvare Wares dai verso il funicolo ma io sto benissimo lì mi trovo a mio agio no Ness no vabbè però hai la chiave anche tu occhio 3 eh non ci arrivo tutti siamo chiavati in questo momento è una chiavica sta partita cazzo io non ho ancora fatto una moneta per usare sto tubo no non la uso adesso sì allora adesso dai Wares facci sognare se fossi intelligente userai il doppio dato così superò quella parte però non sono intelligente quindi poi mi trovo bene qui ma che poi te l'ho detto in realtà tornare indietro ti converrebbe pure tornare più indietro di quanto sei tornato prima minchia l'ha fatto giusto non ha preso bonza la chiave la chiave la priorità la priorità la priorità la priorità la priorità la priorità in realtà no vado a caso decennale di più tribuno like la priorità di più di più di più di più ma che? la priorità è un dodo dorato Musichetta tranquilla Musichette tranquille Mentre la gente sta incazzata nera Allora dove andrei? Qui sulla rossa Qua Quanti me ne mancano? 8 Chissà a Natale quante famiglie Si metteranno a giocare a questo Qua 5 6 7 Ma quante famiglie rovinate? Esatto Secondo me le famiglie comprano Mario Kart 8 deluxe Beh chiaro Probabile Se vai con la chiave mi sa che finisci su una item E potresti provare quella di Dodo d'oro Sì 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 Quella dopo di te Sì infatti io voglio andare proprio in quella direzione Anche perché gli altri sono outcome di merda Eccolo Dodo Dorato e Sheinstein Eh infatti Vediamo Eccolo Eccolo Guardi il so Meglio che ti metti vicino al modem Chiama la mamma che entri nella stanza Che si tenga pronta Tra poco Tra poco Tra poco Oh oh Firelight We are daisy Esatto Adesso non c'è Wario quindi non mi posso sbagliare Facciamo la tech No Scherzo Oddio questo è difficilissimo No la tech no Ammetto che non la so fare io Nes Quindi No ma neanche io non lo so Attiva in parte No ma io non lo so fare manco normalmente quindi Allora quando dobbiamo fare il salto andiamo pianissimo Sì E poi basta Madonna che meshing Eh sono io con il meshing rumoroso Anche quando rivedo gli stream devo mesciare che si sente fail Ok Warlet ti devi buttare giù se no le piattaforme non si muovono Vai 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 Allora un attimo che salto eh Vai 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 Ok si salta Vai 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 Eh volevo andare cauto Ok Occhio Vai Ecco no occhio bravo No Ma è lacosissima sta cosa Ma è lacosissima Eh devi fare short hop tipo Ho trovato Che dici li aspettiamo? No No Entrimo in cima Senti versi Settimana scorsa ho utilizzato Sì che bello Giancana in coppia RL Vabbè sbagli un salto e hai perso praticamente E mi hanno guardato per l'espressione dubbiosa Della gente malsana che non è cresciuta col Gamecube nonno Io li eliminerei dalla tua vita Sì ma dici il contesto nonno Hai detto a un paziente che ti ha chiesto Hai detto dovete prenderli come una gincana coppie E già ottavo turno ancora non ho quittato No e sei ancora primo Cioè sei stato primo dal primo all'ottavo turno Adesso vediamo se c'è un stand di Dachimeon Domanda per Rai A proposito di Dachime Io non ho mai labbato il primo Nel senso che io il primo lo faccio sempre mesciando all'inizio Per la stella sinistra Però se voglio prendere appunto tipo prima Lo scambio di stelle Devo prendere leggermente prima Tipo quando vedo il 20 Cioè oppure Sì sì C'è un po' di timing anche lì Non l'ho mai provato Mentre sta scendendo tipo Quello prima Quindi se tu vuoi fare scambio stelle Adesso ce l'hai dopo 3 a sinistra e 30 a sinistra Quindi quando vedi arrivare 3 a sinistra Tieni pronto il dito 30 a sinistra va giù Premi A Ok Mi ha dato te 2 no? Eh non credo Quello cattivo Me li ha dato te 2 prima Vediamo Eh no qui non ti dà niente Non ti dà niente Semplicemente Minchia che stronzo questo Ah stai vedendo la tec Esatto Minchia è proprio uno stronzo Un attimo ci arrivava questo qua Ho detto tipo va bene a Ginkana Ma piano piano ci arrivava Ma non per la Ginkana Ma per le coppie Che non aveva senso Vabbè non lo volevi dire questa cosa E l'hai detta nel momento sbagliato Ha rinunciato alla stella Per non prendere il dato Ah cazzo Eh ma non so qual è il Non so qual è l'altezza giusta Che prende la chiave Eh Mezzo di nuovo Vuole già meno Eh sì Poco prima di metà Sì Vai 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 Nooo cazzo Poco Beh non ti mancano tre passe Però ti puoi maledire E poi ritornare Esatto esatto Vabbè non male Vabbè non male Ah devo butt... No Beh ovvio No salto al chenstein Vabbè Qualcuno ha detto calamarcio No non ne giro perché Nel calamaro ci sta un personaggio Sull'otto Il calamaretto sì c'era sull'otto Era carino ma c'era Ah no la chiave ce l'ho già No infatti ogni tanto No ogni tanto mettono qualche bestia strana Invece in questo Mario Party Non ce n'ho messo niente Eh ma confido... Uh Vabbè Yes 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 Calamarcio è un insulto Lo sappiamo no? Ma comunque secondo me non faranno un cazzo in realtà Questo gioco Non faranno manco un DLC C'è la possibilità che non facciano niente Lo fanno per Mario Golf Ma per questo non fanno un cazzo C'è la possibilità È la maledizione dei Mario Party Però non lo so A me come gioco sembra proprio fatto per queste cose Poi Cioè tra l'online e tutto Sembra proprio un gioco che dovrebbero supportare Se poi non lo fanno Esatto però ovviamente non lo faranno Perché è Nintendo E quello sì Sarà la... Sarebbe in linea con Nintendo sta cosa Quindi esatto Facciamo una calamarciata Attenzione adesso È il momento Occhio Round 2 Tanta tappa Ah mica Io mi ricordavo che si chiama così in Italia Tanta tappa Ma cazzo devo staccare il modem è vero? Sì sì Chiamava la mamma Su Mi sa che taglio direttamente il cavo Con le forbici Adesso mi rallenta di nuovo Io non sto facendo nulla eh Non sto assolutamente manipolando niente Allora con me l'ordine 3 a sinistra 30 a sinistra Scambio stelle 3 a sinistra 30 a sinistra Scambio stelle No ma sta laggando da morire Eh sì E' guarda Ogni partito che c'è Oh si vede a occhio nudo che Ralletto No vabbè dai Ah che peccato Allora vedi guarda Sei proprio tu Io non ho mai manipolato nulla Non so manco come si faccia Eh si vede guarda Non ho mai fatto L'unica volta che l'hai beccato giusto Sei arrivato ultimo tipo Oh almeno ti prendi 20 monete No da me Eh vabbè dai Si sta prendendo soldi per la rich Solo che deve farne 6 di rich Per vincere Sì Eccato Nemmeno stavolta stacco Sì gelato Gelati Adesso cadono gli spaghetti di gelato Che buoni E togliti è mio È mio Mi caratterizzate a persone Quando studiavo farmaceutica Dammi quel gelato per favore È mio Sì fragola Io non vedo un cazzo Madonna Oh qua non cade un cazzo Perché non cade un cazzo Eccolo Questo che è menta e cioccolata Oh ma che cazzo Ma non mi scende niente Si sta mangiando tutta quella E anche DK No DK mi sta vincendo Eh siamo pari io e Deci Mazza che ciccioni Oddio Oddio Cazzo non Vabbè dopo tagliatela questa parte Si si non preoccuparti Se non tagliamo quella Ti tagliano loro alla gola Quindi è la stessa cosa Non potrei chiudirla in ogni caso Spindimi Ah beh beh quanto manca C'è c'è la direzione giusta No Vabbè vado da Juarez No No niente musica Giardino Bonus Bowser È un bonus onesto Attanto Che perdo Wow Questo sarò io domani E da We are Daisy Solo che nella zona Sono parte del mio corpo Che posso perdere Guarda come è terrorizzata Guarda guarda Dovrebbe essere Bowser Terrorizzata Esatto No tutti Picchia C'ha inculato tutti Anche lui ha paura di We are Daisy Abbiamo messo 5 stella Wards fuora Teniti forte Ne ha presa una da solo a piedi Eh Troppo forte E noi non ne abbiamo ancora presa una Ah infatti Vincenzo Cioè No Wares Vidaldo maledetto Ah è vero è vero è vero Ma scusate Non sono No Abbastanza intelligente Sì Bravo Ecco lo È la decima volta che passi lì Tipo Oh finalmente un po' di musica Jungle Ah metto già di ritorno Yoshi Sta cercando di fare di tutto Per toglierti da qua Sì Non so se sta prima ti toglie passi quando fai meno, se ti da passi te li toglie E' bellissima sta espressione, perchè non rimane sempre quella? Devi fare un hack, guarda, ti metti di fare Mario Kart 64 Meno 9 è un numero buono H a sto gioco Vai, guarda quanto dura sta animazione adesso, un sacco Se dicevi 10 andavi da Bowser anche Esatto Ma che cosa? Ma io la prendo sta stella Lo lasciamo davvero, guarda, così e cerchiamo di farlo di chance time Se la prendo mi dirigo verso il chance time, non è male Io mi sto divertendo Anche perchè non posso comprare niente adesso, quindi Dai, YOLO No, vabbè, che fortuna Hai visto che è bravo? Ci arrivi sul chance time? 9 da qua non lo so Eh, è più o meno quella, Rave Non so se forse va un po' più avanti Vabbè, non c'è nessuno lì, no? Sì, sì, sì No, è di uno troppo lontano Quindi invece se vado su Faccio un'altra rossa Beh, se vado di qua E' una blu Meglio la rossa Ah ma, Rosalinda c'ha lo smalto viola Sì Come piaccia nonno È vero Sulle ungue, sì Sì, sì, è viola Si vede bene nella foto di Horrorland E secondo te da dove l'ha comprato quello smalto? Su nello spazio L'hanno fatto i sfavillotti Con cosa? I sfavillotti possono trasformarsi in qualunque cosa Quelli viola saranno diventati lo smalto Wow Quindi ha ucciso i suoi figli per piutturarsi le unghie L'hanno fatto loro per regalare Ho scoperto che quello nero c'ha un nome Si chiama Polari Polari, sì Eh Perché lui c'è il nome? La loro basica di Galaxy Eh, ho studiato Era... Nel Galaxy 1 era tipo quello più vecchio Era il saggio Luma Ah E nel 2 c'era quello obeso Nel 2 c'era quello obeso, sì Lui faceva schifo però Faceva schifo brettinita Potrebbe essere un personaggio giocabile qua Perché no? L'hanno messo la faccola Ma qui possono rendere giocabili tutti? Odinora Mi ricordo che nel tennis del 3DS C'era Luma Luma normale C'è anche quello per Switch C'è l'Nace L'Nace Minchia, ancora We are Day Questo sarà il video di domani Con noi però In crocifissi Su sto palo In realtà si è collegato Si è collegato Davide su Borderlands Davide gioca solo a Borderlands Davide ha giocato su su Quando si giocava a Mario Party Aveva una connessione di merda Ma si è riuscito a giocare Poi non l'abbiamo più sentito Non so se è risolto Vabbè l'avrà venduto ormai Ah, probabilmente Davide ha venduto a nonno? No, 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 no No, non è SNES No, no, no Tanto a morte mi ha destabilizzato Siamo dei campioni Ma che belle le pose di Yoshi In Wario vinciamo sempre insieme Oramai siamo un tiglio Ecco, anche chi l'ha costruita lì La piattaforma sulla lava Come poi? È vero, esatto Ma soprattutto il meccanismo che gira Come funziona? È attaccato dalla corrente elettrica Girando sotto È energia geotermica quella È qui il tiro Non posso far altro Oddio, cosa c'è a due? Una blu Ah, ok Sì Mi sa che ci ripado? Eh, no, vai a destra No, cazzo Eh, l'hai perso per sempre adesso No, no Sapremmo che devo far No, ma come faccio? Non ci sta un negozio qua? È sopra puoi rubare una stella C'è il V Ah, è vero C'è quasi i soldi Eh, allora ci vado Eh, però devo sacrificare la chiave Non so se mi conviene Perché hai due Eh, ma Due sono poche Eh, questo è vero Mi si spezza un po' il cuore Eh, ma va solo La trovi Ecco, c'è Questo come funziona? Uno prima Devo prendere? Uno prima è quello che vuoi, sì Quindi se voglio la chiave Devo premere il dado Il dado fortunato Maledetto, sì Maledetto fortunato Maledetto Prima, non dopo Maledetto Ah Eh, non lo so che ho premuto No No, cazzo Puoi andare sul chance time adesso Eh, no, lì sopra non c'è il chance time Eh, no Ma cosa fa sul chance time? Si auto Eh, beh, ovvio Lui deve impedire Che gli altri vada sul chance time Ah, tiro sempre troppo Vabbè, rubavo Waris Perché se no mi ruba la stella È stato un errore Prendere sta stella Lo sapevo Però lui mascerà come un cream Sentito? Eh, no, cazzo Sto a premere B Vabbè Non era B? No, era A No, cazzo Eh, vabbè, è troppo difficile Che cazzo È un 50 e 50 No, ragazzi, complimenti Dobbiamo fare Non so se viene la chiave O il custom No, però non il custom Più Il tuo danno fissa Il tuo danno fissa Vabbè, aspetta Guarda l'animazione del tuo danno Perché non riesce a stare fermo? È come te, per antipo Cioè, mi disturba sta cosa Eh, sì C'ha tipo gli spasmi Eh, c'ha tipo gli spasmi muscolari Oh, no Vabbè, cazzo Ha sbancato Ha sbancato il punto Sbancato Ma gli fa pure la festa, vada Ah, che bello Bellissimo sta cosa Monete per due Potrei accumularne altre Oh, questo l'odio No, troppo Vabbè, cazzo 0,1 Madonna, war Ragazzi, peccatemi Sto perfect Ma, donna Cioè, questo è perfect 0,1 Cioè, gli ha morso il culo Letteralmente Ed è morto, poi La coda La coda E a me mi immagino Sempre guarda Lotto che tipo Elinque il vicolo notturno Sente che si avvicina Catenias E dice Oh, my God Citiamo sempre Potrebbe essere successo La scena del bambino Ciccione che scappa Dalla tigre Esatto Ok, Warres Vuole fare anche lui Il loop No, infatti Adesso usa il teletrasporto E mi scambio con Warres Beh, se stai su Stalina Vai anche tu verso il furto Comunque Eh, sì Ragazzi, non ti conviene scambiare Più Stali davanti a te Mazza, che bravo Eh, oh Sì, guarda Sì, guarda Da sette stelle, ragazzi Cioè, una partita così Non l'abbiamo mai vista Mazzo C'ha più chiavi di me Io che faccio? Vai a rubare? Ah, non c'hai soldi, è vero? Hai 50 monete Ah, però c'è No, la banca ne prende 3 No, Warres Che fai? Io userai il dorato Per essere sicuro Ma Eh, infatti Hai però qualcosa di sicuro dopo Oh Me lo risparmio? Magari mi serve dopo, no? Eh, ho capito Però se fallisci Ness dopo si warpa Potrebbe prendere te Eh, ma io voglio che prenda me Così arrivato lì Ah, boh Ok Ok, ok È una strategia Perché? Ma, nel fattimo Secondo me Non gli ho convinto 5, 6 Eh, devo fare almeno 6 No, 7 Devo fare Eh, è rischioso È rischioso È rischioso Vabbè, a me piace rischiare Evviva Wow Spoiler Che te la fa Forse vai da Bowser Ah, ma non mi fa pagare però, cazzo Sì, però c'è Ah, però tre monete Sì, ma tre Tranquillo Vabbè, bravo, Fiff No, però non vai da Bowser Chi saresti Sì, a chi rubo? A te Ah, stavo pensando Stavo pensando Alla roba l'altro giorno Se tutti hanno proprio Zero monete Zero stelle E passi dal blu Cosa succede? Eh, chi dirà che non puoi Età È il dialogo segreto Eh, però esistono Sti dialoghi Eh, scopriamo un giorno Ridendo e scherzo Come fai ad avere zero soldi? Non puoi controllare le blu su cui vai Eh, troveremo il modo Eh, secondo me no È una cosa molto di... Cioè, devi arrivare al blu senza soldi Cioè, ok, i minigiochi li trovi tutti, però... No, che nessuno senza soldi Eh, quello sì che è difficile Cioè, vuol dire tutti senza soldi, no nessuno Ti vorrebbe tipo... Eh no, è impossibile Tipo un Bowser Tipo un Bowser prima togli 10 monete a tutti E devono uscire E poi devono uscire quei pochi minigiochi Che se perdi non guadagni niente Che possono perdere tutti È una roba da Mario Party Legacy No, lì ci va al TAS per forza Cioè, come fai contro... Anche solo le blu, le cose così Non puoi controllarne Dovresti resettare 7000 volte i turni Nessu fai prima cercarlo su YouTube Sì, magari esiste già qualcosa così Eh, dopo certo Sono curioso Ah, io potrei provare a rubare una chiave Con il forziere Non lo so Eh, vero? Hai già Oh, da chi ma oggi ha sparato un sacco di 10 Questo è il terzo Oh, l'accident della stella a metà Ancora non sono riuscito a farlo Comunque A metà prezzo Esatto Ah, vabbè Cioè, a me quella cosa Mi dà un fastidio Perché mi esce sempre quando ho 100.000 monete Non quando serve Ed è come buttare una Lucky Perché potrebbe darmi un item Qualcosa di più utile Ah, il Kong Oh, il Kong di me, vabbè Ok Strano Ok Wares, sei pronto? Sì No, adesso si fa per me la fine per me, però Cosa faccio lassù? Vai dall'albero? Magari ci potessi andare Sì, vai, sono contentissimo Quasi quasi in un quitto È ora di spammare un po' di... E vai Ok, posso provarci Eh beh sì, hai due chiavi A me, io comunque ci provo, perché la chiave la voglio Ah, ma ancora meglio Quindi ho chiave utile, vabbè è meglio, non mi servono sti tubi Mi serve solo c'è di stai Sì, in effetti Voglio l'asiago Oh, anche lui le sei monete E vai Vai Wares, facci sognare Sì Aspetta, eh Adesso Wares, resta sempre qua, come prima, fa 50 monete Ci voglio andare, cazzo Fa 50 monete, ogni volta che qualcuno prende una stella gliela ruba Quindi non è impossibile batterlo se non dice stai Cioè, hai fatto il giro lungo per arrivare? Oh, finalmente, sì Già di ritorno, Yoshi, devi avere davvero fame? Oh, guarda, sta guadagnando anche bonus, ragazzi Ah, che bella musica, Già di ritorno Tutta cosa Dopo che siamo a metà partita Nonno, vuoi fare un cambio di predict Non mi ricordo anche chi avevi predictato Dopo ritorno Hai ottenuto il frutto Odad Odad Odad? Oddio, ti si gira la freccia anche di là, Wares Sì Quindi perfetto Oh, un momento di pe... Ma è tazzo che uscirà Va bene, va benissimo Ok Tanto quella te la ruberà Wares Come è successo a me Quella che prendi col tuo Io adesso non ho la chiave, mia Cazzo, dopo mi si gira anche la freccia nel posto sbagliato, uffa Quasi così, per se no tu non lo uso, aspetto ancora Magari fai qualcosa di altro Oddio, vai oltre la... Oddio, vai oltre la freccia, mi sa Io ti... Ah... Sì E se tornassi indietro, no, non mi confondo Sì, sì, certo che ci godo un po' Ah beh, c'è due, ecco Così Wares dopo te lo ruba La stella Eh, non voglio uscire da quel posto Tu ti controllo da Kim, no, forse La manca è un inventi rosso E invece... Guarda, è morto Che bello, Rai, lo facciamo in coppia Sul Bob, no, guarda, st'attento Ah, è sullo Nooo, ma di tutti i giochi proprio questo Ah no, cazzo No, questo è difficile per me Eh, lo so Me ne sono reso conto dalle 15 volte che sei volato giù Vabbè, che cos'è sta cosa? Eh, sto a guidà Giro, giro Poi io non ci sono nel mio schermo perché c'è Siamo pronti Ci sta Donkey Kong che copre tutto Io, io premo A fortissimo comunque Adesso devi mashare, non devi premere E poi qua non devi premere, devi solo usare le direzioni Blocchiamoli, blocchiamoli Ci hanno stamponato, speronato E dov'è la prima caduta? Io sto mashando A, ma sto facendo male No, non devi mashare Ma guarda, mi ascolti, porca troia Non devi schiacciare niente Ah, ma questo va avanti da solo Sì Ah, ok Dai, però mi piace Mi piace mashare lo stesso Magari va più veloce No, non devi mashare Concentrati sulle direzioni Stiamo andando bene Aspetta Siamo primi Adesso c'è un altro No, adesso c'è un rettilineo Poi adesso va via il bordo a destra Vai 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 Vabbè, stiamo andando bene Gira, gira Adesso c'è un altro salto Stiamo andando benissimo Apriamo il booster Vai 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 Ok, grazie Occhio che manca qualcosa Gira Gira, gira, Warritz Gira, gira, gira Nooo Blocchiamoli, blocchiamoli A sinistra Cazzo Oh, grande Sono schiantati Vabbè, comunque non ci sono dati male Dai Vabbè, non sei morto, c'è già qualcosa, no? Sì Io comunque ho mashato A continuamente Non dov'è di mashare A, Warritz Forca troppo Però 70 volte Ti dà più forza No, per accelerare devi spingere in su lo stick Ah sì 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 Però è meglio portarsi sulle curve comunque Perché se vai troppo veloce poi voli giù come succede sempre Ahhhh Adesso ho capito Cazzo Però ho capito Non vado a prendermi la stealth Eh, solo sei stelle per raggiungere Warritz Cazzo che bravo Puoi anche andare sul chance time No, no, così no Ma qual'era? No, non me la ricordo, Warritz Sì Beh Eh? No, sto chiedendo, no, 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 qual'era la sua predita Ah Godot ha preditato Ness Eh, Nike Non mi cerca adesso Wario Che perde male Warritz Ah, io ce l'ho davanti Molto buono Molto bene Oh, cosa uscirà? Warritz Ok Nonno punta sul cavallo vincente Come favore di avere sette stelle Eh, che bellone Mi piace come Quaranta persone sono entrate in chat Non ho chiesto tutti la stessa qua Dovevo fare tipo un messaggio scritto sopra Sì, esatto, metterlo nel titolo Nel titolo c'è Boss Battle vs Boss King Ah, c'è? Ah, ok Sì, è una Boss Battle Call No, gli abbiamo dato cinque bonus In massimo cinque La modaglia è nove Cinque stelle di vantaggio Eh, però dico Eh, dovevi specificare Eh, vabbè Cioè, devono anche capirlo Svegliatevi su Eh Dai, ne fai un altro forse Lo tuperi Lo tuperi Nooo Vabbè quitto No, vabbè raga quitto Sto per quittare eh No, io non lo uso adesso Perché c'è la freccia che va a destra Poi e non voglio andare a destra Faccio un altro tiro a vuoto Perfetto È un po' che lo spammo questo Meno male che ti ha censurato sto gioco Minchia, quanti mini giochi sugli oggetti sono usciti? Eh, io sto continuando a girare al stesso punto Eccola, no Beh, ovviamente Un'altra chiave Ottimo Ottimo, qualsiasi cosa succede Se perdi mi sa che non ti dice ottimo Esatto Ma poi ce l'avevi già la chiave Potevi andarci già Allo chance Eh bene, un'altra C'è conto di tornare qua giù prima della... Se fallisco questo Oh, c'è il rischio di fallimento qua E invece Ah ok, invece Vado qua se a chance time La direzione è quella Potevi andarci all'albero cattivo E invece No, quanto casino fa sto Stiger? Arrazzo Se non ho le canonate di Pinky Rool Beh, non più casino di... Di Peach che fa... Nooo, nooo Beh, anche questo fa cattino No vabbè, quello fa un casino il fischio Andrà meglio Andrà meglio Ah no, quindi... Al prossimo Al prossimo Ah no, pensavo Vabbè, se Ness vinci il gioco E tiri bene La prendi Ecco, ovviamente non c'è... Anche secondo Cole vince Ness Quante predict su Ness, ragazzi? State vedendo... Ma come faccio a fare 6 sterile? E la luce Buono, quello volevo Beh, non lo so, Ness Può succedere Cioè, Wares può morire male Cioè, può succedere che voi due sbagliate il chance time e mi ridate il resterano E ti diamo tutte le... Eh, può succedere! Eh, sì, età Per carità Io mi sarei... Il tubo d'oro Eh, no, effettivamente... Vabbè, scarto si sia Però mi dispiace un po' Uff Oh, siamo tutti verdi Tutti controlli È vero, è vero No, io adesso sto... La gioco di chance time Ho preso una stella o sbagliato? No, ma chi ne voglio fare? Sì, ovvio, almeno Non l'ho mai fatto Ah, non l'ho mai fatto Giusto il ragionamento di Cole Allora Questo sembra un gioco da Alibon Sì, devi tenere premuto su È molto vero Ok Per la partenza veloce devi premere Subito dopo il via devi premere Non prima, insomma Ah, io non so fare quello Aspetta, non l'ho capito Dice... Inclina, ma inclino in una direzione È basso Quella che vuoi, non importa Io spingo in su È uguale Sì, esatto Qualsiasi direzione Qualsiasi direzione Sui rettilinei tieni premuto al massimo Sulle curve devi rallentare Se no va in testa a coda Il ponticello lassù Conta come curva Quindi su quello devi rallentare Ah Ok Puoi neanche girare la manopola a caso Ma sbaglio o sta pista una forma un po' fallica? Eccolo che farò Il drift mi sa che ti fa interferenza Mi inclino dall'altra parte Esatto Raga non va proprio avanti la mia ma che cazzo hai rotta Mamma Troppo forte Wallace Non troppo forte Eh, l'ho partito così bene, vabbè Hai finito? Sì, Tempun Madonna, bravissimo Madonna Madonna Raga guarda se c'hanno bonus minigiochi Che forza Guarda se c'hanno bonus verdi e minigiochi Quindi Se stessimo giocando con i bonus rando Cioè, i classici Se adesso Se adesso avessi un sacco di amici su YouTube Chissà quanti complimenti riceverei Sì Infatti Su YouTube Perché su YouTube proprio? In tutti i posti? Eh, perché YouTube lì sono tutti gli amici I nostri cari amici I nostri friends Deve fare 4 Oh wow Aaaaaaah Adesso dal clima non fa uno Ho il triplo? Ma però io Eh, non sono quanti anni Quindi io se faccio scambio stelle E anche scambio monete perché ho meno soldi di tutti Oh, Wares pronto a rubare la stella comunque Ah, ma quando devo farlo? Non mi ricordo mica adesso Lo faccio adesso perché Poi si gira la freccia, ok? E vado su di là Ho visto, ma Oh, però ritendo E scherzando anche senza l'handicap sarei in vantaggio Cioè, quindi Non vorrei dire niente però Probabilmente sì Ma infatti Nessuno sta dicendo niente Wares Grazie a me sembra una partita dove stai giocando be- Eeeh Eh, esatto Aspè, però Adesso c'è 10 time Accidenti, ho pensato di arrivare al turno 15 Ho pensato di arrivare al turno 15 invece Invece devi staccare adesso Beh, magari non fallisco anch'io eh Vabbè, prendo le forbici Vabbè, prendo le forbici Eeeh Allora, le forbici prese Aspetta solo il momento Farmi ridere Ho preso le forbici Oh, eccolo Ooooooooooo Ooooooooooo Nooo Vabbè Il peggiore, il peggiore Vabbè Vabbè Ho un tempo Devo fare un altro tentativo dopo Devo arrivare di nuovo giù in 5 Cavolo Nooo Pensavo di smettere di giocare adesso invece Invece devi giocare ancora un po' Ah, puoi fare uno 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 Eh, invece Vabbè Cazzo Mi stanno raggiungendo Il mio piano è questo Piano piano Cazzo Se continua così È brutta Si mette male Guarda, potresti anche Si mette male Si, metti forte però Mickey, ne mette un'altra davanti Davvero, la Kimon sa Un'altra, si Però guarda Se Se comprassi un'altra stella Lo so che sembra assurdo Però Eh Potrebbe essere un'idea, no? Eh, non lo so Mi ho fatto un sacco di basta Cazzo, raga Mi sto cagando Adesso Io aprirai la finestra Che c'è vicino La finestra che c'è vicino la tv Così sei pronto a lanciar giù il controllo Eh, già aperto È tutto pronto già E se Se ti riprende va pure giù dal dirupo Io direi Ha detto Il gioco mi deve dare Mi deve dare un bel bonus Da secondo lo posso prendere Un altro tubo d'oro Oh Una campanella a buche Però adesso Pokémon è che non mi servirebbe molto Tenion Tenion pericolante Tenion ha tre puntini Pericolante Ma questo qua è a caso praticamente Si Cioè nel senso La direzione Cioè la direzione più corta è quella più lunga E quella più lunga no? Si Quella lunga è quella tutta squadrata Quella corta è quella più lunga Ah ok Cioè l'importante è non cadere giù La pista non... Cioè se ti va di culo che becchi Eccala Che becchi quella corta due volte Ok però Eccala Ok Ma no Tornante Ah Udio Io sono un caduto una volta, mannaggia. Se no ho beccato pure per colpidiano. Io tre sono fuorissimo. Warratz 9, Dachimion 6 e Ness... Anche Ness 6. Non so se recupera... Sì, più o meno sì. Se da adesso in poi non vince più niente lo recupera. Sei a... Sono da Todas. Piasso. Io avrei messo Warratz al secondo. A decine chance time no. Perché poi andava qualcun altro su ora. Lo so che così mi stiavo... Non come... Vabbè, ok. Ruba un po' di soldi almeno. No, aspetta. Adesso posso riandarci lì? O no? Sì, devi fare un giro della Madonna. Puoi andare al chance time giù Warratz. Se rubi a Warratz... Voglio andare dall'albero quello tattivo. Dall'albero devi fare tutto il giro a sinistra, sì. Se hai le frecce giuste ci puoi ritornare. Mmm. Comunque dicevo... No, perché se usciva tipo... Cioè mettevo Warratz, dava le stelle... E non me ne uscivo io, le davo tutte a qualcun altro. No, preferisco tenere la cosa ferma su Warratz per ora. Poi, la vedi, ha dei siani un po' strani. Quindi quelle stelle come se fossero dentro una banca. Prima poi ci arriverò. Io pensavo stesse davanti al Boo. Come ne ho detto. Pensavo stesse davanti al Boo pronto per rubare. Sarà che sto abituato oramai a vederlo lì davanti a quell'albero. Yes. Devo vedere dove sono. No, sono qui. Puoi solo tirare, Warratz. E andare da Bowser. Eh, ma lui vuole giocare. Warratz gioca sempre in banca? Banca? Sì, no. Ah, prima. Ah, un'altra chiave. Puoi prendere una stella a qualcuno. Mmm. O puoi farlo a caso come sempre così mandi finalmente tutte le tue stelle su qualcun'altra. Esatto. E dai, no. In realtà è molto buono. Ti avvicini all'albero più in fretta. È vero, è vero. Era la cosa migliore. Ah, è vero. Allora ottimo. Sì, ma secondo me non si era quando la freccia è girata dall'altra parte. E non si tornerà. Ok. Oh, puoi rompere. Ci avviciniamo, eh. Ci avviciniamo. Fai un bel due, dopo. No, quando le cambio è perché così faccio andare Warratz all'albero. Eh, però non ho dato cazzo. Vabbè, il bonus rosso ce l'ho io comunque. Qua. Devo solo prendere ste cazze di sette stelle di Warratz. Eh, eh. Eh, eh. Puoi rubare una chiave da Kino? Così vai al Schenstein. Sì. Ce l'ho pensato. Però non ho il dado dorato. Ecco, adesso ce l'avrai. Ah, no, è ultimo Ness. Beh, però io sono terzo. Eh, però, adesso ce l'ho il dado dorato. Beh, a parte che sì, c'è, però non ho la chiave. O l'uno o l'altro. Eh, dopo. Ah, è vero. Dieci monete, dai. Niente male. Ah, giusto, c'è pure questo. Sì, i soldi. No, ma sempre contro... Au. Sono sempre sulle rosse. È una situazione bravissima. Mi scordo sempre. Ah, quello delle pinche. Ah, quello delle pinche. Ah, quello delle pinche. Ah, quello che siamo bravi. Sì. Sì, esatto. Eh, non sono un po' 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 un po'. Doveva essere questa. Qua. Ah, cazzo. No, no, no. Mi sa che non sono più tanto bravo. Secondo me si deve fare un po' di read. Ah, siamo bravi, invece. Oddio. Eh, siamo bravi, raga. No, cazzo, non siamo più bravi. Però da Kimon è bravo? Meno male. No, bravo da Kimon. Ah, no, siamo bravi tutti adesso, vedi? Sì, sì, ovvio. Ovvio che salutiamo. La lincetta di monete. C'ho un sacco di amici nella lista amici che si stanno collegando a Smash. Di continuo. Wow. Quindi quitterai per raggiungere loro. Ma perché? Mi spieghi perché Johnny cambia sempre nome? Non capisco mai chi cazzo sia. Eh, mi sa che Johnny è un po' un coglione. È un po' andato di testa. Ok. Tipo abbiamo un gruppo su Telegram e lui risponde dopo tre giorni. Non so. Ti fai una domanda. Risponde dopo tre giorni. Donkey Kong. Che è il secondo? L'avevo detto. 20 monete però. Nooo. Ma scusa è il secondo e aiuta anche il secondo. Aiutami invece. Raro ma ti spero. Dove aiutare me che tanto perderò sicuro. Dai i soldi io non li volevo. A me servivano i... Se mi dava un dato d'oro o non i soldi. Però mi servivano la data. Eh, anche a me sarebbe perdito. Oh no. Tenetemi su cash. Ma nel negozio adesso lo vengono ancora il dato d'oro. Lo l'hanno tolto. Non posso neanche prendere il tubo perché D'Archimo me lo ruba. Ecco. Quindi blocco. Oh, per un pelo. Dai non vai il Bowser. Ah, guarda, se tiri bene riesci a prendere la stella. Si, prendi la stella e vai nel tuo albero della vita. Ma non voglio la stella. Ecco. Si dai. In mo' scalao. Ecco vabbè. Ma vabbè. Cazzo. Ragazzi, guardate Warez la skill questa sera. Cioè. Tu vuole ten time. Tu vuole ten time. Tu vuole ten time. Questo mi chiede cinque monete. Io ne volevo tre o cinque. Chiunque ha predicato Warez penso che possa iniziare a stappare. Allora devo andare e dritto così. No. Beh, sì. Ah. Oh, nonno, ho letto il gioco si sta alcolizzando. Beh, per nonno probabilmente sì perché ha predictato Warez e quindi sta stappando. Madonna quanto sto, quanto sto stompando ragazzi. 8 stelle, madonna ragazzi. Non l'abbiamo mai visto 8 stelle in game eh, probabilmente. Cioè. Io ho due chiami. Mi manca la terza chiave. E noi sfottevamo Warez. Sì, non è capace. Tanto arriverà ultimo anche oggi. Invece. Invece c'è dentro di me. Che skill. Dietro di me, ovviamente. Io ce l'ho davanti però, Ness, non ti sbarperai con me. Io devo comprare sto cazzo di dadodo. E vai, eccoci qui. Fatemi prendere sto cazzo di dadodo. Fatemi fare un chance time, cazzo. Faccio due, va bene. Ah, vabbè, che presa per il culo. Nooo, cazzo. Non ci arrivo all'ultimo chance time. Mancano troppi pochituni. Io mi devo fare tutto il rettilineo giù, cazzo. Uh, un altro dieci. Oh, che... Aspetta. Fammi un po' vedere. Sembra che tira dei ruttivo a Bowser. Sì, è vero. E adesso devo tirare bene. Sono sicuro che questi ultimi 4 turni faccio tipo uno, 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 uno. E non arrivo neanche in fondo. E poi se lo rubi. Guardate Todd che c'ha gli spasmi. È bellissimo. Non riesco a smettere di guardarlo. Eh, sì. Uh. È bellissimo quello. Peccato non caghi. Oh, è l'albero stronzo. Ah, non ho visto le frecce in che direzione sono, però... Se vado verso il B o... Oppure no. Io prenderei i soldi così hai due tubi assicurati. Eh, infatti prenderei quelli. Però se andavo verso il B non è... Comunque vabbè, facciamo così. Il tabellone non lo posso vedere, no. Guarda come si gira, eh. Pam, 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 pam. Tra i motep meme qua. Buono, quattordici, buono, buono. Ah, non è girata? Ok, bene. Quindi dopo posso andare anche dal B. Certo, oddio, no. Non mi conviene però fare il B. Oh, eccole. Io sono... Ma io non... Sono dal tonico. Ah, ma spè. Eh, c'è il pattern. Ah, ma questo è Mushroom... È Mushroom Mixup? Sì, è Mushroom Mixup. Puoi vedere anche la... Il disegnino. Il pattern. Mixup... Mixup è quello che faccio su Smash, no? Esatto, bravo. Devo decidere se fare... Corona o Cannonata. Ma questo è troppo difficile, sto gioco. Mi sto capendo un cazzo. No, mi metteranno su cosa. Dov'è questa cosa che saltano di continuo? Cazzo hai, sembra gola a fungo. Sembra Smash, no? Dovresti sentirti a casa tua. Soltano tutti su Smash di continuo. Tipo il Joker che... Vabbè, non so come... Non ho idea. Proprio... Mushroom Sit Down, esatto. Lo schiacciamento combo. Violenza. No, ops. No, ops. Eh, vabbè. Adesso è diventato uno d's uno. Questo Smashing. Adesso è il primo che si scula a terra vince. Ma non c'è il tempo su sta roba. No. No. Ah, quindi vince chi è più bravo? Sì. Non io. No, in realtà credo che in tutti i... No, guarda. Smashing. Non ho lasciato abbastanza. In tutti i minigiochi ci dovrebbe essere... Ci dovrebbe essere un timer nascosto di cinque minuti in tutti i minigiochi. Così se succede un softlock il gioco è portato a finire. Penso questo è difficile softlockarsi comunque, eh. Eh, però starci cinque minuti, sì. No, cinque minuti sono tanti, Nesto non ho mai visto durare cinque minuti. Eh. Mi lascio un messaggio su questo, eh. Sì, ma infatti è una... Sull'altro sì perché era molto più lento, ma qua no. È una misura... È una misura estrema, infatti. Quattro turni ancora non ho vittato. Ma no, se ti guardi con me va benissimo. Perché io vado lì. Però non ho l'anno dato d'oro, devo sperare di tirare giusto col dado, che non succederà. Però sono già più vicino. No, next, nooo. Non mi toglie da lì. Eh, esatto. Risco di sforzare Wareth. Ero ordinario il suo sogno. Tutta la fatica che ho fatto. Tutta la fatica che ho fatto. Dai, io, io, io. Nooo. Io lo davevo, lo davevo, nooo. Nooo. Vabbè, quitto. Adesso vitta Wareth. Eh, beh. Eh, mi sa, ci vado io, pure. Nooo. Mi hai rubato anche questa gioia, Ness. Eh, non è vero. No, non è vero. No, non è vero. No, non è vero, adesso. Mi faccio ciullare i soldi. Mi faccio ciullare i soldi. Sono sicuro di farlo. Invece... Che bella... Che bella l'espressione di Daisy. Devo uscire bene. Eh, infatti, com'è Daisy? È l'espressione che farà domani. Quando... Quando ci sarà l'esecuzione di qualcuno. Oddio! Oddio! Oh, tira di nuovo! Tira di nuovo! Oh, raga, con questo non è super a Wareth di Verdi, eh. In questo momento. Nooo, cazzo! Nooo! Cazzo, no! Le volevo fare io ste cose, eh! Già deve stare. No, io volevo fare sto loop. Ah, vuoi perdere le monete? Eh, oh, sennò non mi sblocco più da qua. Eh, vabbè, tira. Guarda il botto, tira. Nooo, adesso... Ah, ma lui la chiama per fare chance time, Wareth! Nooo, adesso... Fai un item. Prendi il dado d'oro e fai un chance time. Prendi il dado d'oro. Prendi il dado d'oro. Non c'è tanto d'oro. Ah, però c'è stato un coso, il teletrasporto. Sì, è vero, così. Ah, è vero. Oddio, mi sono perso, non capisco più un cazzo. Non lo so dove sta. Non lo so veramente. Credi al tuo cuore. Qual è? No, ditemelo voi. Non lo so, io non l'ho guardato. Ah, beh. No, l'hai guardato, guarda, sei un burlone. No, giuro, giuro, giuro. Giuro che non l'ho guardato. Vabbè. Io stavo guardando, quindi non potevo sapere dove fosse. Ok, se lui si guarda con me... Però tanto non mi sape un cazzo. Va bene, perché mi avvicino. Ok. Oellà, che culo. Ma io non prendo la stella, no, no. Devo fare chance time. Ah, e poi paghi... C'è la banca. No, ma cosa faccio con due stelle, raga? Cioè, per vincere bisogna prendere le stelle di Wards. È quella la Wincon. No, no, hai ragione. Cioè, per vincere che prendi un'altra così. No, vedi, comunque c'era la banca qua che ti toglieva 5. È vero. Ah, è vero, vabbè. Li vado anche da Bowser, quindi bonus Bowser, raga. Mi servirebbero solo delle stelle per garantirmi la vittoria. Perchè non c'è le stelle che vengono divise equamente? Prendi anche le mie. Prendi anche la mia. Prendi la mia stella, va bene. Oh, no, 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 la cosa peggio... Mandami da Wards, mandami da Wards. Nooo, porca troia, nooo. Ah, io dove sono? No, io dove sono? Eh, ti mischia le posizioni. No, che foale. Io volevo andare lì. Sì, sì, sono da Wards, perfetto, 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 perfetto. Oh my god. Perfetto, perfetto. Ho fatto tre passini avanti e una casa della Bowser, ottimo. A me manda potenzialmente a rubare, però certo, dopo non ci avrò mai le cose per... Le monete per due tubi. Eh, già. Poteva essere disastrosa. Ah, poi per carità, magari non ce la faccio lo stesso per essere di Wards, però almeno posso provarci. Poi dovrei fare 9 almeno per rubare. Ah, però potrei togliere un oggetto a Ryle, no scherzo ovviamente, non lo faccio. Ma perché? No, assolutamente. But why? Eh, almeno... Eh, perché il rischio che ci riesce è alto? E' una win for? Ah, se vuole lo fa... Eh, io comunque posso aspettare finché non lo ritrovo, eh, qua. Ma a me poi non cambierebbe nulla fondamentalmente... Ho tutte le caselle di item davanti. Ho tre turni per ritrovare quello che mi avrebbe tolto. Mi sa che vado da Ryle, eh, sì, vado a Brock. Tre monete. Esatto. E' che i bonus sono due, quindi se io adesso rubassi roba da Chimeon... Lui ne ha quattro... Non vinco comunque. Bisogna prendere Wards, proprio. E' proprio lì. Wow. No, quindi super. Tu ti controlla Hilf? Esatto. sii ahhh ahhh ragvot ragvot ah questo non l'ho fatto devi saltarmi addosso così ah non serve a toccare bisogna proprio truffarsi addosso ed attacchi guarda dove vai devi colpire me e non andare a fare gol tu è finito il gioco quando mi avete colpito è finito il gioco Qui ho 3 dash per superarvi Ma fa schifo l'hitbox Vabbè È una nuova tattica, sta a fermi Sì È una merda Sì è una merda, è super anticlimatico Vabbè Oh Si Che ride! Che ride ragazzi Vabbè Molto bello È che voi siete sempre insieme E non recuperate più worth di minigiochi Eh già eh già, lo so Infatti stavo pensando proprio quello Eh vabbè però non potete fare altro, non è che C'è un modo per recuperare la cosa Sì non è che possiamo sabotarlo perché non avanziamo noi Posai Bowser? Si Di nuovo? Si Vabbè hai fatto scopto No non mi swappare adesso Vabbè se vado da Kimion o Wards va bene Non devo andare dove sei tu E altre cose non me ne fotte un cazzo Bowser che trema Io non ho soldi Vabbè Eh no a me mi va malissimo cazzo 62, 59 Beh in realtà stai più o meno dove Ah no perché erano pochissimi Quasi 40 moneta testa Ah Ness bonus Bowser c'era lui adesso Ne ha una in più di me Maledetto No potevi venire a duellarci uguale Quattro fai chance time No No ci va Qualcuno faccia partire la musica Di Mario Party 1 Dei risultati Tanto a me escono tre monete quindi qual è il problema No Eh l'hai detto adesso ti sei gufato Wow Quindi tu lo fai vanilla ultimo blocco alla fine giusto Sì Ok Me lo faccio sempre Esatto Oddio Ho regalato una stella Ah però questo è buono Ah è una stella sola Ah no Ok ok no Stavo per lanciare tutto fuori Capito Ah raga da chi non si sta avvicinando eh Eh sì piano piano Ah io voglio vedere le frecce dove sono Sono a destra Perfetto che così dopo vado su Niente ci provo adesso Anche se Warz ha perso una stella Ah duello anche Warz Certo Cioè Stavo a sfilarmi Perfetto Ti sto aspettando Ti giochi tutti i soldi E intanto puoi scambio le monete poi Sì intanto mi hai fatto un cazzo Cioè Fai tipo la mega combo Cioè mi sconfiggi Più mi rubi tutto Cioè proprio mi distruggi Magari tipo vinci tu Quindi vinci 80 monete E poi le prendo dopo Poi il buy your chance time ti do una stella La mia stella Zin Guarda le mani di Yoshi Quelle cazzo di dita giganti È pronto Yoshi No No cazzo Questo Io questo lo ho fatto una volta e non c'è capito un cazzo Devi saltare sulle liane Sembra difficile per me Ma è a merda sta cosa Vabbè Infatti l'ho detto è molto a culo sto jungle Però è molto jungle È molto jungle Quindi mi piace Potevano mettere la musica dell'albero qui Sì 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 Vabbè si è sincronizzati al Mario No che merda No che merda Salta guarda dove saltare prima Dai Esatto Cioè ce l'avevi perfetto adesso devi aspettare No è troppo tardi No è il gioco del cazzo Vai 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 Recupero una finale Mi stareai curando io devo aspettare Eh ma non ce l'ho Che faccio qui Cioè guarda No devi aspettare lì No vabbè quitto Aspetta c'è ancora accesso Ai cuore Aspetta che è vero Quitto tra poco Vabbè quindi adesso faccio scambio stelle Perché il cashman è pieno Ah che triste Ah che triste Sembra tipo ubriaco Oh finalmente si guitta Finalmente Vabbè raga però mi sono divertito dai 18 turni Mi sono divertito Vabbè vabbè Posso ancora salvarmi Porco dio si si cazzo si Porca troia porca puttana si Oddio Rienta per giocare gli ultimi turni E dai a rifare il turno quindi No il turno non si è rifato Si rifà il turno Guarda ma ha quittato anche la chat vocale Proprio ha saltato internet Ha staccato il mondo Guarda ha proprio staccato Spammo vengo E' arrivato il cambio di predict ok nonno ok Un altro tubo? Si dovevo provarlo E' difficile che riuscirò a usarli entrambi ma Tanto io sono in guerra di nessuno adesso quindi Oh no tutti contro di me Ah no guarda ti sei scusato un impegno improvviso Bella partita ok Vabbè Ah guarda Cacchio mi dispiace Proprio adesso ho un impegno Eh si mannaggia Sono cose che succedono dai Ma questo col bot abbiamo perso Vabbè che abbiamo perso normalmente però Ho buone possibilità C'era anche da Kimion eh Perché lui tiene i tubi quindi adesso arriva alle stelle Perché se Waritz non dava una stella da Kimion Cristo Ah che bellina lei si nel costume Io adesso ovviamente non posso più usare i due tubi così Questa è la sfiga Eh grazie al bot di Waritz Vabbè a parte che il suo gioco era in salita anche se c'era Waritz Sì se lo so però Quindi c'è Waritz superstar parte 2 adesso su YouTube Devo aggiungere l'ultimo pezzo ragazzi No no proprio nuovo video Eh aggiungo alla fine questo Mamma Ah il re-upload Oh vediamo cosa fa il bot Il bot va sul chance Ma sto bot di merda che mi gira le frecce Ma vaffanculo Waritz Anche se non sei qui Cristo Va che figlio di puttana Ma forca Eva Nooo Porca ma Eva Beh anche Sì Cazzo Magari vado su Bowser Allora Bowser davvero 3 da qua Eh però dopo non Che mi possa salvare Cazzo Perché io andavo su E Era meglio Perché c'è Vabbè a parte la chance C'è anche il negozio Ah no a parte che non c'è arrivato Rubami la chiave Che è così Sì Devo così almeno non puoi andare Oh no Spero dal V ci puoi andare lo stesso Eh no Perché dopo ti tira la freccia E quindi non puoi andare dal V La rubo al boss di Waritz Però in effetti è Quasi Quasi Mi potrebbe convenire Perché sta partita La potete vincere in due Quindi Eh 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 No però Vabbè Però c'ho interesse a A toglierti la chiave Boh Non mi posso togliere Qualcosa Al Blocco No quello lo uso Lo uso Intanto nessuno prenderà un altro tubo adesso Quindi Solo che magari uscito Poi random Sì infatti Tanto al prossimo turno Usi un tubo per forza Quindi qualunque cosa prendo Eccolo E' solo La chiave no? Waritz anche da bot Derubato di tutto Di tutto ciò che ama Guardate come Waritz da bot Mi ha inculato adesso Che mi ha girato Dalla parte sbagliata Adesso perdo per quello Tipo Viene la stella in alto adesso Eh vabbè ma no Che figa però Cazzo Il mondo lo rischio di non usare Anche l'altro Se non vinco il minigoco Eh questo Aia Oh Dio Oh i bot Oh i bot Raga i danni che sta facendo Waritz Da quando se n'è nato In questo O da chi I danni che sta facendo Waritz Da quando se n'è nato Non lo so No aspetta Guardiamo il bot come gioca Guarda il bot come gioca Il bot tiene premuto? Ah no No dai è bravo il bot Dai forse Riesci lo stesso Non credo Oltretutto c'erano ancora alcuni 3 contro 1 Abbastanza facili Da solo Tipo Piranha Pursuit Quella del Masso Vabbè Che merda Dai però Che schifo Però complimenti a Dachimion Che da solo Stava scalando Verso La vittoria Senza Shantai Sì Magari Magari Vedi Waritz Magari Se eri ancora in partita Avresti vinto il gioco E per Dachimion Era ancora aperta Il fatto che te ne sei indato Gli ha tagliato le gambe Ah Dai 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 Vabbè in realtà Se io adesso vado da Bowser Mincio una stella E Dachimion Mincio due bonus Quindi è ancora un pochino aperta Manco il Shantai in finale Adesso fa il Shantai in pot Oddio No No Che delusione Come lo fanno i bots Non l'ho mai visto raga È in effetti strano Perché loro conoscono come funziona il gioco No Nell'uno della vita No Cos'è il due? Una verde e blu Beh bonus rossa ce l'ho io comunque Anche se la rossa Ne ho quattro E gli altri no Ah Ah peccato Aspetta Eh ma io troppo so Ce l'hai il Shantai in davanti? Dov'è la stella? No non è qua il Shantai in S È sotto No Ah eh C'era una stella col Shantai in davanti Niente Non posso sperare neanche col versus Perché non lo raggiungo No lo superi Eh no perché adesso io c'ho un botto di soldi per il duello con War Quale duello con War? Ah Ho fatto il duello che ho vinto 80 monete Ah sì sì E adesso io c'ho troppi soldi quindi lui non Cioè se finiamo in parete È difficile che mi raccontano No dovevi rubare al bot No ma poi tanto anche se fossi andato sul versus dicevo non ti riuscivo a pareggiare Eh allora magari me ne toglievi 30 Poi vincevi tu Mi superavi di monete Cioè se io ne perdevo 30 Arrivavo ultimo Tu vincevi Ah beh Ne vincevi moltissime Poi vincevi che ne so anche il minigioco Perché se tu vinci due bonus siamo pari Però io ho troppi soldi adesso No esatto apposta Non ce le aggiungo più con le monete Oh meglio Nella pista delle talpe Sì quello delle talpe E a cantare piccia Raga comunque Vabbè aspetto a cantare vittoria Anche se dovrei avere vinto No sì Non sei recuperabile Comunque solo nonno ha preditato me Al penultimo turno No però anche il veccio Non mi ricordo chi ha detto Però il veccio ha detto Guardi si pulerà in qualche modo Effettivamente è andato con me Non mi ricordo Non mi ricordo Ahia Non mi ricordo che era bello Nooo Sono andato male qua Tanto io avevo tipo vinto tre minigioco in tutta la partita Adesso guardate come esce il bonus Bonus minigioco Che emozione Minigioco in tutta la partita Questa è Waris Sì è il bot di Waris Unlucky sono io Vabbè A dead injury E raga la streak continua E raga la streak continua Anche contro le più pervide Vabbè ho avuto Il censai me l'ho cannato Però sono uscito lo stesso io Parlo con le talpe alla fine Vabbè vedi Ness Quindi è una vittoria L'unico che ha perso qua ragazzi Ovviamente Waris No? Sì Servono le nove stelle di vantaggio Eh sì Volevo vedere l'elettroencefalogramma poi Guarda come porgo la mano alla talpa Per farlo Ma secondo me stai cercando di Stai porgendo una pistola Stai a fare photoshop con la pistola È vero? Eh fa lavorare Waris Hai fatto lo spin Unisciti al weird days il talpa Esatto Ok che bonus avevo io? Nessuno? Te avevi item forse Evento Eventi Ah no item l'avevo io Ce n'avevo Waris Io avrei avuto monete Oggetti comprati Passi Cazzo Ce n'avevo Per un oggetto Eh ma no infatti non è rimesso male Cioè Se non andava male Gli ultimi turni Sì Infatti devo ringraziare Vabbè i bonus comunque In ogni caso non sono usciti Però Avevo il bonus Bowser Sì Il bonus Bowser sì Io avevo meno passi Oltretutto Wow Item l'avevo segnato sbagliato L'avevo segnato Ness Quindi ho sbagliato a segnare item Claudio Guarda beccatevi dentro Incefalo granda Esatto Beccatevi la discesa Della riga blu Faccio una foto anche a questo Anche se su Twitter Vabbè salterò i bonus Quindi vabbè Praticamente in effetti Senza bonus Anche se avessi usato i due tubi Alla fine avessi vinto tu Perché non Rai qua c'è un clip Da fare C'è Di metterci l'urlo di Wario Che fa Oh my god E poi scende E fa Wow Esatto Ti avevi Riccio Di metterci l'urlo di Wario